peperoni arrostiti ripieni di spaghetti alla buttanesca sono meravigliosi fateli con me iniziamo per prima cosa arrostisco i peperoni per circa 30 minuti girandoli spesso nel frattempo metto l'olio in padella qualche spicchietto d'aglio le acciughe i capperi le olive verdi e le olive nere poi una volta dorati tolgo gli spicchietti aggiungo la passata di pomodoro pizzico di sale e faccio cuocere per 15 minuti a fiamma bassa senza coprire una volta cotti metto i peperoni in un contenitore copro con la pellicola e li lascio intiepidire per una mezz'ora dopodiché li spello salo l'acqua e metto a cuocere la pasta due minuti prima della fine della cottura scolo gli spaghetti li passo velocemente in padella mescolando bene il tutto ungo una pirofila con dell'olio extravergine riempio i peperoni con la pasta copro con il pangrattato filo d'olio e metto sotto al grill per 4-5 minuti eccoli qui prima di criticarli fateli ed assaggiateli sono squisiti mamma mia e ma